Salve a tutti ragazzi, oggi voglio spendere due parole su uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Pino Daniele. La mia considerazione si sofferma su come Pino Daniele abbia saputo unire il pop italiano, in particolar modo la musica napoletana, con il blues e tutte le contaminazioni culturali nere d'America. Questo fa di lui un grande innovatore della musica leggera e io lo definirei un vero e proprio bluesman italiano. A tal proposito volevo comunicarvi che prossimamente uscirà il mio videoclip musicale nel quale canterò al pianoforte proprio un brano di Pino Daniele, quando una delle canzoni più belle dell'artista napoletano. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale youtube Ippolito Official, la pagina facebook, instagram e twitter. Un bacio e al prossimo video! Grazie a tutti!